Ed eccoci qui signori nella terza puntata su PES 2021 nella modalità campionato Master, Master League con l'FC Gotham City, io sono Pierluigi e benvenuti nel canale PierDarkNight91. Finalmente nella scorsa puntata abbiamo chiuso il calciomercato estivo, siamo riusciti ad acquistare Chong e a prendere due giocatori in prestito, Art e Fernando Llorente. Abbiamo disputato due partite di campionato, ancora due pareggi e quindi in tre partite ufficiali in questa competizione abbiamo zero gol fatti, zero gol subiti e tre pareggi. Poi siamo usciti contro lo Swansea in FA Cup 3-1 ma una partita un po' rocambolesca. Quest'oggi tre partite di campionato e affronteremo il Millwall, poi il Bristol City e per concludere il match più difficile contro il Watford. Mi raccomando ragazzi lasciate tanti bei pollicioni in su, nel frattempo sto allenando Tai Chong che nella scorsa puntata ha fatto sfracelli e anche Fernando Llorente, soprattutto contro lo Swansea. Quest'oggi voglio due vittorie signori, contro il Millwall e contro il Bristol City possiamo farcela. Poi contro il Watford catenaccio assurdo per cercare il pareggio ma adesso andiamo a fare la formazione. Non arriviamo in ottime condizioni in questa partita e non arriveremo in ottime condizioni anche nelle prossime partite, nelle prossime settimane perché non abbiamo ricambi di altissimo livello e quindi dobbiamo cercare di stringere i denti. L'unica nota positiva è l'affietamento squadra che sta crescendo, adesso è a 57 e volevo anche dirvi che sto ricevendo davvero tantissime mail per quanto riguarda le divise della stagione successiva. Ma tranquilli ragazzi se non vi rispondo perché sono tantissime mail ma sto archiviando tutto, ok? Andiamo in partita. Va bene Millwall che dà il via a questa partita e questo Gotham City deve cercare di soprattutto segnare eh. Il tocco Ethic, benissimo per Rice, Rice per Giorza, bello il tocco a Pallister, Pallister che può andare, scatta Rice, ecco il tocco al centro ma rallenta la sua corsa nel momento sbagliato e quindi può, attenzione, ripartire il Millwall ma non ce la fa, non ce la fa. Chiudilo, 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 c'è spazio, attenzione Millwall che ci prova pallone in mezzo e vantaggio della squadra avversaria. Primo gol subito in campionato eh. Parrot, Troy Parrot. Eccolo qui il gol di Troy Parrot, una nostra vecchia conoscenza eh, una nostra vecchia conoscenza. Chong sulla fascia, non trova nessuno, ecco il passaggio di esterno per Clandestino che prova il tiro di esterno per cercare il pareggio, ventesimo. Abbiamo tentato almeno di impensierire il Millwall. Wallace, pallone al centro, attenzione, prova a girarsi, il tiro e la parata di Hart. Ci stanno bucando facile facile signori e quindi Wallace può metterla in mezzo, attenzione che al centro è tutto vuoto e palla fuori. Attenzione a Clandestino, occhio a Clandestino ancora, ci fanno giocare solo sulle fasce, ecco il pallone in mezzo. Ma no, cross sbagliato, lì Llorente aveva tagliato benissimo sul primo palo. Thompson, chiusura del numero 22 Rice, ecco il passaggio a Clandestino. Clandestino, bello il tocco, c'è spazio, tocco a Llorente, Llorente che la alza per Chong, Chong che può andare nell'area di rigore, Chong che sterza, non trova nessuno. Ancora un passaggio, poi all'indietro Etic, Etic per Clandestino che prova il tiro di sinistro e palla sul fondo, ci siamo svegliati. Non ci sono spazi per vie centrali, ancora proviamo a bucare adesso, deviazione, arriva Chong, poi il tocco a Fernando Llorente che fa una finta ma viene chiuso proprio alla fine. Bene, niente, per vie centrali, niente, non ci sono spazi. Niente ragazzi, niente, abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo commesso due errori difensivi e in uno di questi abbiamo preso il gol da Troy Parrot. Niente, inizia il secondo tempo, nessun cambio. Secondo me se Llorente non si dà una svegliata e Chong non si inventa qualcosa, quest'oggi non abbiamo possibilità. Ecco Chong, anticipato. Occhio. Attenzione qui perché stanno facendo girare il pallone in maniera incredibile. La palla che rimane lì ma c'è fuori gioco. Benissimo, chiudi, chiudi qualsiasi spazio, chiudi qualsiasi spazio, chiudi qualsiasi spazio, rischio. Qui c'è fallo, qui c'è fallo. Ehi, attenzione, non fischia la punizione, colpo di testa. La spazza via. Fuori gioco? Non c'è fuori gioco, contropiede? E niente, anche qui ci siamo addormentati. Un altro errore difensivo. Siamo lentissimi in difesa, siamo lentissimi. 2-0, Romeo, prima sconfitta in campionato. Beh, lo sapevamo che era una stagione difficilissima ma non mi aspettavo di non riuscire proprio ad attaccare il Millwall. Guarda qui, guarda che buco, guarda che buco. Mamma mia che errore lì, meno mai ci siamo salvati. Ci proviamo, attenzione, libero dall'altra parte. Serviamo Pallister, Pallister. Si infila e mettila in mezzo, sveglia! Proviamo a battere questo calcio d'angolo. Chissà, riusciamo a fare qualcosina, Pallone e mezzo. Niente, nessun colpo di testa, ci prova Rice dalla distanza con il sinistro. Finalmente, al 92esimo, primo tiro in porta. Rivediamo Rice, uno dei pochissimi giocatori che era in squadra prima dell'approdo di Pierluigi Annecchino abbastanza decenti. Ancora corner, ancora nell'area piccola e ci prova sempre a metterla in mezzo, clandestino. Vediamo un po', ecco il pallone in mezzo. Prova e trova Chong! Ci siamo svegliati troppo tardi. Alla fine del primo tempo e alla fine del secondo tempo, con due errori difensivi. E a gennaio serve almeno un difensore centrale. E quindi questa è la classifica dopo quattro giornate di campionato. Lo Suonzi è ancora in prima posizione con un punto di distacco dal QPR. Ha pareggiato, ha pareggiato una partita ma cinque gol fatti, zero subiti. Mentre, attenzione, noi perdiamo la sedicesima posizione. Siamo in ventesima con tre pareggi, una sconfitta, zero gol fatti, due subiti. Difficile. E nel frattempo ci hanno fatto un'offerta per Giorza e non è un'offerta brutta, eh. Ma Giorza ha 19 anni, anche se non mi sta piacendo, abbastanza lento. Vediamo un attimo come è messo in velocità, 67. Però dovrebbe crescere un po' di più, sì, dovrebbe arrivare almeno verso i 75. Quindi per il momento no, niente. Nel frattempo, con il mio osservatore, mi sto mettendo d'accordo per trovare alcuni giocatori, qualche giovane promessa. E quindi adesso stiamo cercando di trovare qualche terzino destro e terzino sinistro. E ho messo già a ricercare il difensore centrale. Prossima partita contro il Bristol City. Bristol City che ha quattro punti. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che ha più punti del Gotham City, un punto in più, eh. Solo un punto in più e sulla carta possiamo batterli, eh. La prossima partita è quella difficile contro i Watford. Non stiamo per niente messi bene, signori. Hart completamente fuori forma, quindi ci sarà Melikov che comunque non ha mai preso gol attualmente nell'FC Gotham City. Vedremo se quest'oggi non prenderà gol perché sennò poi incomincio a farmi il pensiero che Melikov potrebbe essere meglio di Hart che nelle ultime tre partite ha preso quattro gol. C'è Soric, c'è Chong completamente fuori forma, ma deve giocare. C'è Llorente, c'è Pallister, c'è il clandestino. Proviamoci ma non lo so, eh, perché comunque sono stato costretto a togliere Ericsson, il nostro difensore centrale titolare. Abbiamo messo un giocatore da 58 di overall e abbiamo perso anche l'affietamento squadra. Signori, concentrazione. Cerchiamo di vincere la prima partita. Via! Inizia quest'altra partita di campionato. Clandestino. Ai, 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 ai. Un po' troppo corto quel pallone ma non azzecchiamo un passaggio. Ancora uno. Llorente di testa lì, se riusciva a fare sponda. Potevamo andare dritti dritti da soli davanti al portiere. Non ce la fa Soric proprio. È una cosa incredibile. Vai contro! Oh, vedi che c'è la punizione. Vediamo, vediamo se c'era il fallo. Sì, sì. Ha rischiato pure il calcio di rigore. Punizione. 66 a 34. Il possesso palla. Ecco il pallone e mezzo. Colpo di testa. La butta fuori. La difesa. Ma l'azione non è finita. Vai incontro. Granville fa fallo. Punizione dal limite un'altra volta. Basta un po' di stanchezza e adesso non facciamo più nulla. Ecco il pallone e mezzo. Ancora un colpo di testa. Pallone alto di pochissimo. È uscita di pochissimo. Guarda qui. Ancora. Vai Swiffer. Vai Swiffer. Vai Swiffer. Ecco il tocco. C'è spazio. Attenzione il clandestino. Madonna che piede. Mamma mia che piede. No, questa era la giocata della vita. E ci siamo divorati il gol sottoporta. Ma l'ha presa troppo sotto. Abbiamo avuto solo una grande occasione. Chong. Punta l'uomo. Chong. Può andare sulla fascia. Ancora Chong. Velocità di Chong. Finta di Chong. Attenzione. Punta l'uomo. Fa una finta. Ancora Chong. Non riesce poi a crossare. Grande occasione per poter metterla in mezzo. 0-0. Ma non c'è affiatamento. E non c'è abbastanza stamina. Non siamo molto in forma. Non è. Non facciamo errori. Non facciamo errori. Qui pallone in mezzo. Su secondo palo. Pallone alto. C'è stata una deviazione. Ecco perché. C'è stata una deviazione. Ci siamo salvati. Proprio alla fine siamo al settantesimo. Ecco il pallone in mezzo. Anticipato. Mamma mia che scarso. Che scarso. Gol. Williams. Mamma mia sarà difficilissimo salvarsi. Tre sostituzioni. Rimane sia Chong che Llorente in campo. Chiudilo. Non prendere il secondo gol. Attenzione a questo tiro. Parato. Chiudilo. 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 Mamma mia la difesa che. Ma è una cosa incredibile. Appena. Cercano di attaccare in velocità. Ce la fanno. Perché i difensori sono lenti. Ma po' lenti. Non riescono a recuperare. 2 a 0. Mamma mia. Non ce la posso mai fare. A salvarmi qua. Almeno un'azione la riusciamo a fare. Llorente. E col qui Fernando. Niente. Sbagliano delle cose incredibili. Sbagliano delle cose incredibili. Un'altra partita persa. E quindi adesso tre pareggi. Due sconfitte. Ma soprattutto zero vittorie. Zero gol fatti. Zero gol fatti signori. E' bastato solo giocare tre partite di fila. Per togliere un po' di forma fisica. E un po' di stamina. Che guarda qui. Che adesso non ci ripigliamo più. E questa qui è la classifica. Signori per poter concludere in modo positivo questa puntata. Bisogna almeno. Dico. Pareggiare. Ma vincere sarebbe perfetto contro il Watford. Che si trova in quarta posizione con 10 punti. Tre vittorie. Un pareggio e una sconfitta. Noi siamo in ventunesima posizione. Ancora secco di vittorie. Ma soprattutto ancora secco di gol. Nonostante l'acquisto di Llorente. Nonostante l'acquisto di Chong. Chong è ancora giovane. Deve crescere. Ci sta. Comunque. Se vinciamo possiamo arrivare e riprenderci la sedicesima posizione. Ma dipende tutto da cosa faranno le altre squadre. Sapevamo che era una carriera difficilissima. Che il primo anno sarebbe stato così. E poi pian piano cercheremo di migliorare. Ma non mi aspettavo. E cinque partite di campionato. Ancora zero gol. Mi andava bene anche avere questo risultato finale. Ma i gol dove sono? Nel frattempo cresce Chong. Di un punto overall e arriva a 75. Anche Goios. A 69. Llorente meno uno. Quindi da 79 a 78. E adesso siamo pronti. La partita più difficile della giornata. Abbiamo perso le prime due. Le prime due erano partite più abbordabili. Quindi non voglio immaginare contro i Watford cosa ne verrà fuori. Vediamo. Signori ottime notizie. 52 di affiatamento. E abbiamo Rice ed Ericsson come giocatori titolari. In piena forma. Ha recuperato Chong. Non ha recuperato del tutto Llorente. Ma ci sta perché non è giovanissimo. E quindi. Noi facciamo il catenaccio. Noi ci chiudiamo. Poi vediamo se in contropiede riusciamo a fare un miracolo. Ma guardate la squadra avversaria. Quanto è forte a differenza nostra. La vedo. Ma. Non parlo. Siamo pronti ragazzi. Il match sta per iniziare. Molti tifosi sono venuti qui in trasferta. A supportare il Gotham City. Vedremo. Perché comunque è una partita praticamente impossibile da vincere. Hanno anche Pereira. E il match è iniziato. Mamma mia. Questi già in attacco. Guardali. 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 Già offensivi. Mettetevi in... No. Ma dove vai? Ma dove vai? Ma dove vai? Svegliamoci eh. Svegliamoci eh. Perché il Watford è partito fortissimo. Svegliati colpo di testa. Attenzione. Qui Chong va a aiutare. Ma non ce la fa. Si gira. Chiusura. Vai vai. Esci fuori da qui. Esci fuori da qui. Bene. Respirate. Respirate. Che lentezza. Signori si gira Pereira. C'è spazio. Chiudilo. 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 La parata. Ci è mancato pochissimo. Hanno fatto quel che volevano nell'area di rigore del Gotham City. E ci salva Art. Non va bene. Non va bene. Non abbiamo neanche il possesso palla questa volta eh. Neanche quello. Colpo di te. Si fanno sempre sovrastare. Ancora. Fallo. Si continua. Sì. Ha sbagliato il cross e poi gli dà la punizione dai. Ormai aveva giocato. Se no si fermava. La vedo male 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 questa punizione eh. La vedo molto male. Ecco il pallone in mezzo. Colpo di testa fuori. Corner. 25 minuti di sofferenza signori. 25 minuti di sofferenza. Ecco il pallone in mezzo. La buttiamo fuori. Lì mi ha spinto. Lì non me la fischi la punizione? Eh? Lì non me la fischi? Ancora che continua il Watford. Nell'area di rigore. Deviazione. Uuuuh. Meno male. Welbeck sbaglia. Chong. Ecco il pallone in mezzo. Attenzione. Bella Chong. Bella Chong. Ancora e tocco all'indievo. Ma non così. Giorza. Rice. Guardalo. Benissimo. Vai clandestino. Provaci di sinistro. E palla fuori. Ragazzi appena ho l'opportunità provo a tirare in porta. Perché se non lì finiamo ancora una volta una partita con zero tiri in porta. Chong non la stoppa bene. Riesce a toccarla. Llorente. 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 Temporeggia. Temporeggia troppo. Era in ritardo Chong lì. Aspettava l'inserimento. Passaggio a Soric. Mamma mia che lentezza sto giocatore. Mamma mia. C'ha due mattoni attaccati dietro le caviglie. Finisce il primo tempo. Niente. Difesa che non c'è. Guarda quello che passa davanti al pallone. Non lo prende. Giorza. Dai Giorza. Dai Giorza. Bene. Buon passaggio. Di prima. Llorente fa una finta. Attenzione. Llorente si infila il tiro di Llorente. Fernando. Llorente. Proprio contro i Watford. Vi ho ucciso le orecchie. Vi ho ucciso di sicuro le orecchie. Ho gridato tantissimo. Mamma mia che bellezza. Che bellezza. Che sofferenza. Che carriera difficile. E' questo quello che mi piace. E stiamo battendo la squadra più forte delle tre. Attenzione. Adesso signori. Non prendiamo gol. Concentratissimi fino alla fine. 56esimo. Il passaggio. Attenzione. Lo saltiamo. E ma svegliatevi. Taglia lì. Giorza. Pallone in mezzo. Corner. Mamma mia. Si è svegliato il Gotham City. Ma quanta concentrazione ci vuole per fare un gol. Attenzione. Pallone in mezzo. Llorente. Deviazione. Tiro. Palo. Traversa. Che cos'era? Forza. 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 Sempre vicinissimi al raddoppio. Sbaglia il passaggio. Qui ritorna. Ritornate. 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 Temporeggiate. Ma ritornate. Ok. Chiudilo. 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 Benissimo. Sorich. Andiamo. Andiamo. Guarda Chong. Lo trova. Chong. La tiene. Chong. Fa una finta. Ancora Chong. Chong. Che cerca con questo scavetto. Bellissimo. Ancora Chong. Finta di Chong. Passaggio all'indietro. Bravo Chong qui. Bravo. Bravo. Ecco il tocco. Fantastico. Cerca Llorente. Lo trova. Uno. Due. Fantastico. Attenzione. Rice. Ancora un palo. Ancora un palo. Non facciamo errori. Non facciamo errori. Meritiamo la vittoria. Attenzione. Chiusura. 87esimo. Mordete le caviglie. Mordete le caviglie signori. Mordete le caviglie. Mordete le caviglie. Vai Hart. Perdi te. Calma. Perdi tempo. Calma. Llorente. Di testa. Due minuti alla fine. Due minuti alla fine signori. Swiffer può andare. Swiffer. Ultima azione. Sì 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 che vinta. Dai che vinta. Swiffer. Benissimo. Bravissimo. Tocco. Clandestino. Di prima per Llorente che si gira. Attenzione. Fernando Llorente provava il tiro. E adesso. La parata del portiere. Ma c'è punizione. Punizione. Rivediamo l'intervento su Llorente. È vinta signori. È vinta. Stava per tirare. Ma proviamoci. Non si sa mai. Attenzione a questo tiro. Ci prova il clandestino. Colpisce la barriera. Non è finita qui. La teniamo. Andiamo sulla fascia. Perdiamo tempo. Ecco il pallone in mezzo a Llorente che non arriva completamente avanti alla sfera. Riprendiamo il pallone. Il passaggio a Chong. Sbagliato. Ma la palla esce fuori. Finisce qui. Prima vittoria. Finalmente. È il gol di Llorente. Due gol già nell'FC. Gotham City. Una in FK. Una in Championship. Dai. È andata. Un secondo tempo dominato. Abbiamo colpito due traversi. Un palo e una traversa. Non ho visto bene nella prima azione se era traversa o palo. Ma abbiamo colpito un palo e una traversa. Comunque due legni. E abbiamo fatto una gran bella partita. 7.5 per Llorente. E questa è la classifica signori. Non siamo in sedicesima ma bensì in diciottesima. Una vittoria, tre pareggi, due sconfitte. E abbiamo fatto il nostro primo gol ma ne abbiamo subiti quattro. Quindi... Vabbè. C'è la nota positiva. Abbiamo vinto la prima partita. E nel frattempo Chong nel giro di due partite ha già acquisito una nuova abilità. Ovvero l'elastico. Quindi sta migliorando velocemente. Ci sono arrivate delle offerte. Una per Ericsson. No. Questo è un giocatore titolare. L'altra offerta è per questo terzino sinistro. Ma sono bassi. No, no, no. Per il momento no perché... Comunque abbiamo bisogno di cambi. Poi a gennaio vediamo un po'. Anche per lui che non utilizziamo mai. Lui ha quanti anni? 24 non ha un grandissimo tasso di crescita. Si potrebbe cedere ma non abbiamo poi troppi sostituti. No, per il momento non posso far nulla. Nella prossima puntata signori affronteremo il Birmingham in campionato. Ma non guardiamo più la valutazione perché quest'oggi avete visto bene che sottovalutando perdiamo. Anche se c'è da dire che nelle prime due partite siamo arrivati in condizioni pessime. Non pessime ma comunque non eccezionali. Mentre contro i Watford siamo arrivati in condizioni ottime e abbiamo fatto un'ottima partita. Quindi se c'erano già, se ci fossero stati già dei cambi, dei sostituti all'altezza, quest'oggi forse non c'erano, non arrivavano due sconfitte. Comunque, Birmingham, QPR e Bermut. Madonna mia, è così forte? Mamma mia. Va bene, signor... Ah, poi dopo c'è lo Suonzi, mi sento malissimo. Cercheremo di riprenderci le nostre rivincite. Io nel frattempo vi do un bacione, un abbraccione. Questa è stata una puntata davvero... Ho avuto davvero tantissima concentrazione. Ho parlato meno, meno del solito. Però bisogna giocare così, signori. Almeno all'inizio devo rimanere concentrato. Un bacione, un abbraccione. Mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su. Più like lasciate. Prima arrivano le nuove puntate. Ciao a tutti!